Siamo con il tifoso Pasqualino e dobbiamo dire Pasqualino che l'ultima intervista ha spopolato perché hai indovinato anche il risultato che avevi previsto 1-0 a 0 e poi sono arrivate tantissimi messaggi in redazione quindi ma chi è Pasqualino tutti si chiedono chi è Pasqualino chi è il tifoso Pasqualino quindi vogliamo dire che il tifoso Pasqualino è un ex calciatore e ha giocato in Serie B in Germania Pasqualino allora parliamo invece subito di Salernitana cosa succede nella prossima gara che è quella sempre di Coppa Italia con il Pisa si doveva giocare a Salerno ma sappiamo i motivi per cui questa gara si giocherà a Gubbio e questo comporta un disagio enorme per i tifosi che devono andare a Gubbio e non meritano questo disagio quindi questa è la prima parte per quanto riguarda la seconda io posso dire che queste partite di Coppa servono semplicemente a testare i calciatori che sono arrivati quindi condizione fisica schemi e niente più il risultato è relativo però come sempre dobbiamo dire un risultato e lo diciamo anche oggi la Salernitana vincerà la prossima partita quindi allora Pasqualino per chi ci segue da casa ha ufficialmente affermato che la Salernitana vincerà la partita contro il Pisa certamente non sono un mago beh col beneficio di inventare però vorrei rispondere alla signora Giovanna che segue le mie interviste la competente è lei non sono io a me fa piacere sentire i commenti positivi sui miei commenti per quanto riguarda l'altro signore che mi definisce uno zampognaro io vorrei dire che la zampogna io so anche suonarla quindi se vuole ascoltare il mio concerto venga a Giffoni Segasali e farò vedere come suona anche la zampogna quindi Pasqualino è il tifoso quindi suona anche la zampogna certo nonché attore e voglio come sempre anticipare che il giorno 17 e il giorno 20 rappresenteremo a Giffoni Segasali due commedie Natale in casa Cuviello il 17 e il 22 Pasqua Acquapippa dove anche io sono protagonista quindi noi facciamo anche l'attore ok andiamo avanti e quindi come ha visto però questa gara che ha vinto la Salernitana ai calci di rigore allora come io anticipai era un pareggio ed era scontato ha vinto ai rigori ma certamente i problemi sono tanti per San Nino io auguro all'allenatore di risolverli presto certamente non sarà Rosina a risolvere i problemi della Salernitana e non so quanto Lotito possa mettere a disposizione quante energie economiche può mettere a disposizione ancora per la Salernitana Rosina lo stimo un grande calciatore Rosino prenderà un milione di euro ma sapete quanti sono come reagiranno quelli che prendano 70.000 e 60.000 la Salernitana